oddio la testa di aerobrain ce l'ha raga ve lo giuro dove c'è la testa di aerobrain ciao a tutti creeper io sono celofi e quest'oggi siamo qui con giocherellone e eria che sarebbe game time su youtube che purtroppo funziona il microfono si vabbè poverino quest'oggi siamo qui su questa super vanilla un nuovo server epico tutto loro dove mi hanno invitato quindi grazie per avermi invitato e mi spiegate un pochino in coda consiste certo certo allora io sono qui appunto per questo allora è offerto dal nostro carissimo b metto che gli lasciamo magari link in descrizione che è scala qui per la modalità esatto ok allora qui abbiamo le teste dei vari youtuber metteranno anche il trofeo di celofi che bello vedete ma no ma qui c'era più di pai ragazzi è sicuro che stava che più di pai a partecipare certo ok qui a più avanti praticamente percorrendo questo percorso bello andiamo nella zona dei lotti in cui c'è pure la scritta super aspetta che sono lento perché sta morendo di fame no aspetta ecco o due uova ok comunque abbiamo già girato un attimino avevo claimato un lotto da qualche parte ok aspetta che tipo ilia che poverino poi tutto solo allora vedi qua la zona di lotti questo è il lotto del builder mi sembra sì di un builder praticamente i lotti servono a non farti griffare le costruzioni tipo vedi provo a spaccare quando non riesci perché non è tua è casa mia per fare questo cioè per prendere un lotto ed io posso spaccare ma mi sa che voi non potete e infatti non può che è lì alla costa l'avevo trustata che vabbè in vitro anche te anzi aspetta un attimo maledetto di aspetta che ho paura che lui mi ruba qualcosa no scherzo e quindi praticamente per prendere un lotto ok che praticamente serve per costruire quello che vuoi in questo lotto qui in questo territorio senza essere griffato basta fare questo comando lot claim ok ok adesso ti farò prendere un lotto andiamo in un lotto che non si si no questo l'avevo già fatto fuori dal video il mio lotto sarà giù in fondo da qualche parte ah hai settato la home mi sa di no quello no non sapevo se potesse fare quindi ci andiamo a piedi vediamo se lo ritrovo credo sia questo con un albero e due cose mi pare di sì sì ok fai questo comando qua beh se tomba se tomba sì sì ok perfetto e questo ti serve per ovviamente per costruire devi farmare tutto in vanilla ah e poi un'altra cosa puoi anche costruirti le basi fuori dai lotti però poi con rischio di essere griffato infatti ti consiglio di fare le cose sotterranee questo è un pochino l'illustrazione ecco e possono ovviamente tutti registrare la modalità e io qui un paio di cose quindi se ce ne avete voglia e dire che andiamo in caverna a prendere un po di ferro le cose di base sì 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 concordo elia tu annuisci con la testa se siete d'accordo ok perfetto povera elia ok le darò a selo qui ecco qua grazie fantastico guarda metto qua così perfetto ok ok adesso qui facciamo spawn e andiamo in giro sì andiamo in giro nel mondo bello vediamo se troviamo una caverna oppure ci scaviamo sotto i piedi e andiamo direttamente vai selo qui ok va bene questo mondo è il piatto da 24 ore si è già distrutto è vero sì madonna vieni elia aspetta spacco pure ad elia che sono poverino sì sì ah no ce l'ha la pala scavando diritto per dritto lo trovo a tutta del ferro ah perfetto beh dai non male non neanche un piccone di pietra aspetta che lo faccio va eh no infatti c'è la bedrock mi sa che non sta niente suona molto male detto così no no è niente ok sono pieno di ferro anche io ma non trovo ancora una caverna anche qualche iscritto in chat si dissocia bene bellissimo ok vabbè risaliamo ragazzi perché non sta niente vabbè ok un po' di cose le ho prese vado alla home voilà ed eccomi a casa ok perfetto aspetta che vengo anch'io c'è un po' di fornaci e poi devo costruirmi una casetta decente tutte le cose buttate qui sono orribili adesso provo a darvi i permessi per costruire eh devi fare plot vabbè sai il comando eh plot trust è per il nome nostro ok autorizzato e anche te ok non mi fa spaccare perché ah si è autorizzato yeah ok ora potete costruire tutto qua guarda e possiamo che fare no scherzo 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 ok io tengo un po' di legno ma tipo tengo dieci pezzi perché ho finito tutto per la casa che l'ho finita oggi un casino ok mi metto a prendere un po' di legno anch'io oh c'è un tizio fede ti sta dando del ferro ma chi è ciao grazie ma che mi sta buttando gli enderai ma che sta facendo due enderai grazie fede ma nonna ma che perché fornaci cosa è sta roba ma sei pazzo guarda qui carta vuoi della carta una zappa ti do gli occhi tieni te li regalo grazie sì potremmo andare nell'ender dragon ma questo la modalità è viaggio da 24 meno di 24 ore eh eh sì ho visto ed è riuscito questo qua fare subito grazie vabbè andremo a cercare l'ender dragon anche se non siamo pronti però un giorno lo faremo sì sì un giorno lo faremo e quando succederà chiamatemi eh sì sì verremo faremo tipo una oh mi ha donato no maledettoria mi ha successo ma pure ok aspetta roba qualcos'altro dacci di più all'incudine no non ci pure gli ha dato l'incudine oh io tengo fortuna 3 a casa ragazzi lasciate la facciamo così vi prego gianni ecco allora aspettate dov'è io tengo fortuna 3 che ho trovato in un dungeon mamma mia fortuna 3 tantissimo però non lo voglio fare per questo piccone di ferro ma no tienite la per il piccone di avanti quindi per ora purtroppo beh però vabbè dopo lo chiedo a fede un è ritornato fede mi ha dato un dio che caspita che sta succedendo maledetto ti ha fregato qualcosa ti ha dato un'armatura guarda lì ma ti ha dato qualcosa pure a te ma calmati amico ma come tu sai che c'avevi l'inciante dicevi che ma chi me l'ha dato lì clamati me l'hai dato tu no 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 tienilo perché a me stanno buttando robe guarda lì io la mia spadina di ferro triste che si chiama gianni il piccone c'è lofi e ha detto che è mio ha detto che è mio è visto e grazie ok non so che farci al momento male l'armatura in diamante ok grazie grazie mille fede per sto coso incredibile che userò per scavare la pieta perché vi metto non è più fk magari magari c'è non ho idea di cosa fare mi sa che fa un classico cubetto brutto vediamo un po faccio almeno i lati qualche qualcosa mi invento adesso chiediamo oddio la testa di erobrine ce l'ha ragà ve lo giuro dove c'è la testa di erobrine chi l'ha piazzata c'è la maledizione non è è bimeth tan 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 è lui voglio vedere admi c'è erobrine bimeth è invisibile bimeth si sta trollando le maledizioni maledetto bimeth questa ce la paghi bimeth ce la paghi maledetto subirai uno dei miei terribili troll biscuit per quanto la vendi io qua faccio facciamo i grandi affari voilà l'interno praticamente completo ora ci sposto tutte le cose e devo aspettare che finisca di di crescere gli alberi così che sono povero eh biscuit mi disp io volevo volevo un po di pane di pagnotta se così si può dire un po di pane per i denti invece però non so a me piace più così vediamo un po manca un pezzo di legno grezzo ah no ok anche di qua ne manca un pochino ce l'ho ce l'ho ok quello lì sì di quercia ah di quercia eh no è cresciuto ora sì ok il segno del destino ops aspetta che ti chiuso dentro vai esci perfetto bravo bellissimo bene ragazzi direi che questa survival è iniziata bene non so quanti altri video ci farò quando li farò e se diventerà una serie comunque ringrazio loro per avermi invitato per avermi aiutato a costruire questa bella casa e noi ci vediamo al prossimo video trovate l'ip in descrizione tutto il resto ciao a tutti